di far sì che questo controllo venga assunto dal soggetto dentro, perché il soggetto e il controllo non se lo può portare fuori. Tutto questo è molto difficile e in passato questa difficoltà veniva amministrata in modo tale che si privilegiava il controllo sulla cura, ma il problema è che per far crescere la coscienza il controllo lo devi amministrare diversamente, non in modo persecutorio per esempio, invece spesso quando noi ci sentiamo controllati, non noi detenuti, noi esseri umani, quando ci sentiamo controllati ci sentiamo anche perseguitati, a meno che non ci sentiamo anche amati. Io posso accettare il controllo di chi mi ama, ma l'amore, non vorrei dire cose sdolcinate, l'amore non è previsto come strumento professionale, il rispetto sì, il detenuto può accettare il controllo a condizione che si senta rispettato e nella migliore dell'ipotesi a condizioni che senta la persona che lo sta controllando, fautrice, sponsorizzatrice della sua emancipazione, del suo star bene. Diversamente il controllo viene sempre vissuto come un'invasione, una persecuzione, una riduzione della propria libertà.